Anche provato che le università sono un volano di sviluppo per i territori, grazie anche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Missione 4 e l'opportunità di creare partnership secondo il modello Hub & Spoke, quindi la collaborazione con i territori, le aziende, le comunità civile, crediamo che le università siano fondamentali affinché questo sviluppo sostenibile del territorio e transizione ecologica e sociale appenga. Grazie a tutti